Marcello, la vittoria del Pescara credo sia stata netta, ma nel finale avete provato ad ottenere un pareggio che per quanto visto sarebbe stato clamoroso, in senso buono ovviamente. Sì, non hanno meritato, hanno fatto meglio di noi, è un peccato, non siamo questi, questo dispiace, siamo all'inizio. L'atteggiamento va corretto in fretta, perché noi non possiamo essere una squadra molle, non possiamo essere una squadra che sbaglia l'atteggiamento, non possiamo essere una squadra che non soffre, perché noi i primi 20 minuti non siamo stati capaci di soffrire, quindi c'è da difendersi, ci si può difendere anche perché siamo bravi quando lo vogliamo fare, oggi non siamo stati bravi e il Pescara ha meritato, poi è chiaro che due gol in tre minuti ti tagliano le gambe, poi il secondo tempo la partita è andata via in un certo modo, il Pescara ha meritato, anche se poi alla fine il calcio è strano, quindi poteva succedere anche l'imponderabile, ma chiaramente il Pescara ha meritato. Qualcuno diceva in tribuna, qualche tifoso del Latina, la squadra è rimasta a Foggia, c'è stato un approccio probabilmente negativo a questa partita, oppure è stato il Pescara che con la sua forza ha messo in difficoltà sin dalle primissime battute il Latina? Il Pescara ha fatto una buona gara, ma il Pescara era quello che più o meno ci aspettavamo, il Latina l'ho detto io, non la testa a Foggia, la testa ce l'aveva in campo ma ce l'aveva in maniera sbagliata, l'ha interpretata male, ma non da Latina, ribadisco, il Latina è una squadra che ha un'identità ben precisa, che è una squadra tosta, poi ha anche delle buone qualità, però se sei molle contro una buona squadra come il Pescara chiaramente alla fine fai fatica ed è andata così. Per chiudere Marcello, prima e dopo la partita hai avuto modo di salutare il presidente Sebastiani, Campitelli, dirigenti del Pescara, dell'Icarri, insomma soprattutto il dopo, cosa vi siete detti? Ma nulla, nulla, io ho fatto i complimenti a loro perché comunque hanno vinto meritatamente, hanno fatto una buona partita e mi auguro che continuino così assolutamente e come mi auguro d'altro canto che il Latina si riprenda subito perché secondo me, forse in maniera un po' diversa, ma hanno tutte e due le capacità e la qualità per fare un campionato importante. L'ultimissima chiedo a Marcello Di Giuseppe che per sua stessa ammissione è un tifoso del Pescara da Abruzzese, in testa ci sono Crotone, Catanzaro e Pescara, diceva Colombo in conferenza stampa, Crotone e Catanzaro sono avanti a noi, loro devono vincersi il campionato, noi dobbiamo fare bene, però davanti ci sono Crotone e Catanzaro, secondo te sono questi i valori o Colombo vuole giustamente mantenere i piedi per terra anche nell'ambiente? Siamo alla seconda del campionato, è chiaro che ci sono tre squadre importanti davanti, ma è presto, è molto presto, il Pescara secondo me è un vantaggio, il fatto che sta facendo punti in un momento in cui probabilmente doveva sempre in teoria pagare un po' d'azio, perché comunque il Pescara è una squadra che adesso è una squadra forte, nel senso che ha anche tante alternative, però mettere in condizioni i giocatori non è semplice, il fatto di fare i risultati in questo momento può essere un vantaggio che avrà in futuro, però è presto, è molto presto, è chiaro che il Catanzaro e il Crotone, ma non solo loro, sono squadre forti, e il Pescara lo è altrettanto, poi se il mister fa bene a smorzare un po' gli entusiasmi, anche se secondo me il Pescara ha bisogno di entusiasmo, però io alla lunga vedo il Pescara competitivo.